Dolore sconcerto a San Giovanni a Piro e tra la comunità ecclesiale della diocesi di Teggiano Policastro che a distanza di poche ore ha dovuto salutare due parroci particolarmente amati e che erano un riferimento per tutta la diocesi. Venerdì scorso 13 maggio l'ultimo saluto a Don Pietro Greco, parroco della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Casalbuono che si è spento all'età di 74 anni dopo una lunga malattia. Sabato 14 maggio la triste ed inaspettata notizia della morte di Don Tonino Cetrangolo, 56enne parroco della chiesa dell'Immacolata Scario dove 12 anni fa era giunto per guidare la parrocchia. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità che sperava di poterlo riabbracciare. Questa mattina in occasione dei funerali che si sono celebrati presso la chiesa di Scario, ufficiati dal vescovo della diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, l'intera comunità di San Giovanni a Piro si è stretta intorno all'amato parroco in un giorno di lutto cittadino proclamato dal sindaco Ferdinando Palazzo. Don Antonio Cetrangolo, ordinato sacerdote il 18 giugno del 1994 dal vescovo Monsignor Bruno Schettino, era stato sempre particolarmente impegnato a sostegno dei seminaristi. Negli anni infatti si era anche occupato della formazione nei seminari di Tegiano, Napoli e Salerno ed attualmente ricopriva all'interno della diocesi il ruolo di vicario episcopale per l'annuncio alla catechesi. Appassionato di arte ed in particolare dell'arte pittorica realizzando diverse icone e della musica divenendo autore di numerosi canti, Don Tonino negli ultimi anni era stato costretto a combattere contro un terribile male. Negli ultimi giorni purtroppo pare avesse anche contratto il Covid per il quale era stato ricoverato presso il Covid Center di Agropoli dove sabato mattina è deceduto. Nel primo pomeriggio del 14 maggio si è diffusa la triste notizia che ha sconvolto duramente la comunità ecclesiale ancora colpita dalla morte di Don Pietro Greco i cui funerali erano stati celebrati il giorno prima. Una folla commossa questa mattina si è stretta intorno al suo amato parroco a Scario per l'ultimo saluto.